Nel 1994 qualcuno ha avuto il coraggio di chiamare a dirigere uno dei ristoranti dell'hotel Lilton di Roma, un giovane tedesco. Questo coraggio è stato ripagato perché Hans Beck è diventato forse il numero uno in Italia, integrandosi con la cultura gastronomica e non solo la cultura gastronomica, ma con la cultura e il piacere di vivere italiano. Andiamo a provare qualcuno dei suoi piatti. Hans Beck, lo chef della pergola. Basta questo, la puntata dovrebbe essere finita così o potrebbe essere finita così. Ma no, vogliamo anche dire tutto, no? Ci raccontiamo. Siamo all'interno di un albergo, il Cavaliere Hilton, la cima del Monte Mario, il posto più alto di Roma, con una vista molto salviato sulla città. Allora, vogliamo cominciare a provare il lavoro di questa brigata? Ah, bene. Come prima cosa arriva Emiliano e lui ci prepara uno scampo cotto in ghiaccio a meno 198 gradi. Noi che cosa facciamo con questo piatto? Buiciamo lo scampo a freddo. Quindi uno scampo o prepara condito così? Condito con un po' di limone, un po' di pepe e quello che prepara Emiliano è adesso il sale. Il sale con l'azzoto. A questo punto un po' di sale di di cervia, macinata a fine, perché il sale di cervia è più dolce e meno amaro. A questo punto abbiamo preferito quello. E la sta raffreddando con azoto liquido, così il sale... E a che temperatura? Scende questa? Guarda, questo sale scenderà sicuramente a meno 180 gradi. Accidenti. Poi appoggiamo sopra i scampi e richiudiamo tutto con un altro po' di azoto, con un altro po' di sale ovviamente. Di sale azotato diciamo. Azotato. Lasciamo tutto per 30 secondi e dopo bagniamo, laviamo il sale via con un po' di tequila. Ah! Sale, limone, di tequila, no? E certo, ritorniamo. Ritorniamo a una bella bevanda che conosciamo tutti. Grazie, Emiliano. E questo è... Sì. Credo che assaggerai anche tu. Anche io, sì. Ma queste non sono un capesante, dai. Sì, ma sono capesante in quanto è un capaccio di capesante. Capesante tagliate finemente. Io sono curioso di continuare queste sperimentazioni personali nella tua tavola. Questa è quella che tu chiami la carbonara. No, io lo chiamo facottello. Ah! Però l'idea nasce sulla idea della carbonara. Assaggela. Beh, è un'altra cosa questa. Eh no, guarda, lì è... Sa il problema della carbonara vera? Perché è un piatto fantastico la carbonara. se è preparato bene. In conclusione, quanto costa mediamente venire a mangiare qui alla pergola? Guarda, dipende soprattutto a che cosa bevi. Certo. Perché lì abbiamo dei prezzi che possono anche essere molto più alti il bere che il pasto. Il menù sette portate sono 170, nove portate 195. Non mi rimane altro che farti gli auguri a te e a tutto il tuo staff e che l'armonia che regna su di voi continui, perché i risultati che si vedono sono eccezionali. Ti ringrazio. Un brindisi a voi tutti. Ciao. Grazie e spero che ritorni presto. A prestissimo. Grazie.